Si chiama per altri occhi il docufilm che il regista minanese di origine ticinese Silvio Soldini ha realizzato e presentato recentemente e che è dedicato al mondo dei non vedenti. È proprio un gruppo di ciechi al centro del lavoro di Soldini che cambia prospettiva e aiuta lo spettatore a entrare nel mondo di chi vede poco o nulla per 24 ore al giorno, riuscendo comunque a ottenere risultati straordinari attraverso talenti indiscussi. È il caso di Felice Tagliaferri, scultore di origine foggiana, le cui mostre hanno ottenuto successi in tutta Europa. Abbiamo contattato una serie di persone non vedenti, abbiamo deciso quali erano i personaggi giusti per il film e insomma dopo circa, tra una cosa e l'altra, un paio d'anni perché nel mezzo anche è girato il mio ultimo lungometraggio Il Comandante la Cicogna, quindi poi il montaggio del documentario si è avvenuto dopo. Il film non è un film sui non vedenti, è il film su delle persone che nonostante abbiano un'emite molto grave, per noi assolutamente grave, sono capaci di andare oltre e di vivere questa vita come molti di noi non sono capaci di vivere. Sia io che gli altri attori facevamo la nostra vita in pace, ognuno faceva la propria. Lui ha girato l'Italia appunto per cercare dei personaggi che facessero cose particolari e non ha fatto altro che riprendere il nostro quotidiano. Quindi alla fine nessuno ha dovuto fare delle cose in più per dimostrare chissà che cosa. Abbiamo semplicemente fatto il nostro e casualmente alle persone piace perché sentono la spontaneità e la direttità, insomma sentono che siamo diretti, spontanei, veraci, proprio pane e salame.